Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo un qualcosa di particolare che va applicato ai vostri termosifoni di casa e che vi aiuta a poter gestire al meglio quello che è il riscaldamento di casa. Ma passo la parola a Marco che vi saprà sicuramente dare maggiori delucidazioni. Oggi parliamo delle valvole smart della marca Meros. Ma vediamo cosa contiene questa confezioncina. L'apriamo e troviamo. Delle istruzioni, vediamo, dovrebbero essere solo in inglese e in tedesco. E infatti sono solo in inglese e in tedesco. Ma non preoccupatevi, poi vedremo. C'è la bella valvola. Allora, l'aspetto è bello. Bella, esteticamente stupendo. Esteticamente molto carina, ha il suo display dove poi verranno visualizzate le informazioni. La ghiera sembra un po' delicata, ma in realtà io ne ho già montate altre funzioni egregiamente, perché tanto una volta messa poi... No, ma anche se è plastica, almeno sembra plastica, no? Sì, 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 esatto. Però una volta che la filettatura è stata inserita e regge... Esatto. Qui c'è lo spazio per le batterie, perché va a batterie, naturalmente. Da quanto tempo l'hai cambiata la prima? Ma sono due mesi e mezzo ancora. E non è ancora cambiata la batteria. Quindi, come potete vedere, una volta messe le batterie, secondo noi... Esatto. Non ci dovremmo... Se non doveste trovare l'adattatore giusto per voi, tra questi tre, non preoccupatevi, perché contattando l'assistenza Meros, io ho delle Giacomini come valvole, e non si adattava a nessuna di queste, purtroppo, perché era tipo a baionetta. E dopo vi faremo vedere. Esatto. Io le ho contattate e mi hanno detto di fare una ricerca di un adattatore su Amazon, di fare l'acquisto e di girarmi poi la fattura di acquisto, che me l'avrebbero rimborsata. Ah, vintuola. Sì. Mi hanno rimborsato l'adattatore, che a me è costato circa 7 euro, ne ho comprati due, e me li hanno entrambi rimborsati. Però vedi la serietà dell'azienda... Sì, devo dire, molto soddisfatto. Complimenti alla Meros. Esatto. All'interno non troviamo nient'altro, il certificato di qualità, vabbè, niente di più, niente di meno. Allora, quindi, bando licenci, vi ricordatevi, vai, ricordaglielo, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così verrete informati dei prossimi video in uscita. Ma prima di tutto questo cosa vogliamo fare? Montiamo la valvola? No, lanciamo la nostra sigla! Prima di procedere con l'installazione, alcune premesse. Per poter installare le valvole che abbiamo appena visto, della Meros, è necessario possedere anche uno smart hub della Meros. Questo viene venduto in uno starter kit, diciamo, contenente appunto lo smart hub, che è questo qui, e una valvola. Questo smart hub vi consente di comandare fino a 16 valvole intelligenti, quindi ne comprate uno e poi è il dubito che ci sia gente che ne abbia più di 16 di calorifer in casa. Lo starter kit al momento costa su Amazon 73,99€ e appunto vi consente di comandare un termosifone. Lo trovate comunque spesso in offerta, scende anche, è sceso circa una settimana fa, a circa 42-43€. Poi ogni singola valvola vi costerà 43,99€ attualmente su Amazon. In offerta anche questa io sono arrivato a pagarla 28€, quindi oscilla il prezzo, tenetele magari nella lista dei desideri e vi terrà aggiornato Amazon. Lo smart hub, in poche parole, per coloro che si stanno approcciando adesso al mondo della domotica di Alexa, non fa nient'altro che farvi da ponte tra le vostre valvole che andrete a installare, la vostra rete Wi-Fi e naturalmente poi ad Alexa. Già che ci siamo vi faccio vedere quello di cui vi parlavo prima, dell'adattatore che andremo ad utilizzare adesso, che è un Giacomini R453H. Comunque, per qualsiasi marca su Amazon trovate l'adattatore che vi può servire, senza alcun problema. Questo poi vi faremo vedere, se avete anche voi Giacomini, come si installa, si sostituisce a quello precedente. Velocissimamente, per poter impostare e montare il vostro hub, dovete semplicemente collegarlo all'alimentazione, dopodiché cliccare due volte il tasto di accensione e spegnimento sopra e a questo punto inizierà a lampeggiare color ambra e verde e farete poi, tramite l'app, la configurazione del vostro dispositivo con il vostro Wi-Fi. Per ore specifica, prima di partire e spiegarvi il tutto, dovete essere possessori di termosifoni ad acqua, quindi normalissimi, e di valvole ternostatiche. Per capirci, queste che si aprono e chiudono, ma in più con i numerini da 1 a 5 generalmente. Se avete quelle valvole che invece sono più piccole generalmente e si aprono e chiudono semplicemente senza alcuna numerazione, non si possono installare queste valvole, a meno che non vi rivolgete a un professionista, così consiglia Mevos. Ultima cosa, promettiamo, poi iniziamo, fondamentale, dovete avere un impianto di riscaldamento centralizzato. Per prima cosa, ci accingiamo a smontare la vecchia valvola, quindi dobbiamo aprirla tutta, quindi che il radiatore sia caldo, il termosifone. In questo caso, queste valvole si smontano a baionetta, tirando. Vedete? Questo è l'interno, adesso vi faremo vedere l'altra. Qui dentro c'è questo pistoncino che non fa altro che quando avvito spinge in avanti questo pirulino qui e chiude quindi il flusso dell'acqua. Quando lo apriamo, rilascia il pirulino e fa passare l'acqua e scalda quindi il termosifone. Ora interviene il nostro adattatore di cui abbiamo parlato prima. Questo serve perché la valvola non si riesce a montare su questo genere di attacco. Quindi tramite questo adattatore, che si monta con una lievissima pressione, delicatissima. Ecco qua. Ok. Come potete vedere qui c'erano due innesti, due linee guida da seguire. Non ho fatto nient'altro che inserirlo con una leggerissima forza ed ora se schiaccio questo pulsantino apre e chiude il flusso dell'acqua. Semplicemente questo. Passiamo alla valvola nuova, quindi la prendiamo. Quindi in questo caso tutto ciò che trovate all'interno, almeno nel mio caso, nel nostro caso, tutto ciò che trovate all'interno degli altri adattatori, li gestiamo. Togliamo la pellicolina. Michele godrà. Eh ma questo è bellissimo. Molto bella eh. Come vi dicevo prima, qui c'è lo sportellino per le pile. Vi consigliamo di aiutarvi con un cacciavite fisso oppure io qui ho un tagliacarte per fare un pelo di leva, così verrà subito via senza alcuna fatica. Qui trovate l'innesto per le pile e andiamo ad inserirle. Inseriamo anche la seconda pila e come potete vedere già si accende. Non so se sentite, fa già un rumore ed è semplicemente, ok non lo fa più, ma è semplicemente la valvola. Il testo? Esatto, sì, di apertura e chiusura. Quindi quel rumore è normale. Andiamo a reinserire il coperchietto delle pile. Ok, ci esce uno zero, tutto normale, ci siamo. Passati circa 15 secondi dall'inserimento delle batterie, premiamo il tasto UP, questa freccia all'insù. Ok, si è acceso il display, lo rischiacciamo ed è diventato uno. Fa un altro set, un rumore. Vedete? Non so se lo vedete, si sta aprendo e chiudendo la valvola. È un po' difficile da inquadrare, comunque sta semplicemente andando avanti e indietro la valvola. Ok, quando vi appariranno sul display queste informazioni, che poi sono tutte da settare, tranquilli, quindi 0002, che sarebbe l'orario con il simbolo del calendario, la scritta room, la temperatura rilevata e sotto il simbolino del termostato con il sole, allora ci siamo. Ora andiamo ad attaccarla al calorifero, quindi una lieve pressione per tenerlo in corrispondenza e andiamo ad avvitare la ghiera. Vi consigliamo di tenere il dispositivo con il portapile verso l'alto, a parte che è direzionato in modo tale che si possano leggere i numeri in questo modo. Però avete anche più facilità di poter smontare il coperchietto e rimuovere le pile e sostituirle. Per prima cosa dobbiamo scaricare l'app Meros, quindi andate nel Play Store o nell'Apple Store e cercate Meros. Vedete già il primo, quello lì è il simbolino della Meros. La dovete installare. Una volta installata e aperta vi troverete questa schermata senza naturalmente questi dati dove ho la valvola del bagno e la valvola del calorifero della sala. Quindi vi troverete praticamente una schermata bianca. Per andare ad associare la vostra valvola basterà cliccare sul tasto più in alto a destra e vi chiederà che cosa volete associare. Noi scegliamo Smart Thermostat Valve, che è la seconda scelta. Ora ci dice collegare lo Smart Hub come nell'immagine seguente e sistemarlo vicino al router per garantire una buona connessione wifi, quindi accenderlo. Nel mio caso, avendo già lo Smart Hub installato e già due valvole installate, andrò a cliccare Ho già installato lo Smart Hub. Però, nel caso in cui non aveste installato lo Smart Hub, semplicemente andate a cliccare su Prosegui e come vedete la spia dello Smart Hub inizierà a lampeggiare verde e arancione. Arancione, ambra, vabbè. Farete Prosegui e farà la ricerca. A me in questo caso non... esatto, mi darà l'errore ma perché comunque è già abbinato. Voi dovete semplicemente fare il collegamento del vostro wifi allo Smart Hub. Vi chiederà di inserire la password del wifi e nient'altro. Quindi, tornando a noi, Smart Thermostat Valve. Ho già installato lo Smart Hub. Ci chiede se abbiamo inserito le pile, se funzionano. Sì, l'ho fatto. Ci chiede di controllare la versione. La versione la trovate scritta sulla scatola. E questa qui che mi ho possesso è la versione 4.0. Quindi, versione 3.0 e successive. Dobbiamo cliccare due volte sullo Smart Hub rapidamente. E come potete vedere, il LED inizierà a lampeggiare rapidamente in verde. Clicchiamo il tasto prosegui. Ok. Ci dice di cliccare un tasto qualsiasi per accendere il display. E di cliccare il tasto di accensione e spegnimento per avere questa tipologia di schermata. Ci dice di tenere premuto il tasto M. Sentite che intanto fa il rumore, giusto? Non vi preoccupate. Il tasto M per 5 secondi. E il tasto, ok, non l'ha preso. Dovete avere il display acceso. Il tasto M per 5 secondi. Eccolo. E poi la freccia in su. Ora in modalità accoppiamento. Abbiamo fatto. E poi la freccia in su. Benissimo, è stato aggiunto il dispositivo. Dove si trova? Nella stanza dei bambini, nel mio caso. Quindi prosegui. Selezioniamo stanza bambini e prosegui. E' tutto a posto. Ci dà una bella notizia. Clicchiamo su finire, se non dobbiamo aggiungerne altri. Altrimenti aggiungi un altro e ripartirà la configurazione. Quindi finire. E come potete vedere, ci troviamo anche qui il nuovo dispositivo installato. Dalla temperatura vi potete accorgere che siamo alle Bermuda. Entriamo nell'app Meros. Vediamo un po' com'è. Come vi dicevo prima, qui vi trovate la schermata principale, con tutti i vostri dispositivi associati, il nominativo che è stato dato. In questo caso potete anche cambiarlo il nominativo. Vedete, prima l'abbiamo associato alla stanza dei bambini e ce la chiama stanza dei bambini. Basterà cliccare sul pennino, qui si apre questa schermata, cliccate sul nome del dispositivo e da qui fate tutte le modifiche che volete. Cliccando su una qualsiasi valvola, quindi facciamo bagno, questa è la schermata che vi ritrovate. Trovate questa ghiera che serve per variare i gradi che volete avere nell'ambiente in cui vi trovate. Quindi spostandoli a sinistra e a destra varierà anche quello. Come potete vedere, io ho impostato 20 gradi in questo bagno perché è un calorifero a colonna e la valvola si trova nella parte bassa del calorifero. Quindi non gli arriva direttamente il calore sul sensore che ha il suo interno. E quindi basta un 20 gradi per avere un ottimo clima all'interno di questo bagno. Diverso è per i caloriferi tradizionali, come questo su cui abbiamo montato l'ultima valvola, oppure come quello della sala. Dove per esempio ho impostato 25 gradi. Perché? Perché naturalmente il calore andando verso l'alto e avendo la valvola nella parte alta del calorifero, il sensore che c'è al suo interno rileverà sempre una temperatura più alta dell'effettiva presente nella stanza. Dovreste comprarvi un sensore esterno wifi che consenta di avere l'arrivamento della temperatura nel punto in cui desiderate esattamente quella temperatura. Altrimenti facendo delle prove, io in questo caso mettendo 25 gradi, mi trovo benissimo perché mi raggiunge circa 22 gradi e mezzo. Quindi mi trovo più che bene. Tornando a noi, l'applicazione vi farà una stima nella parte in alto a sinistra i gradi che trovate all'esterno della vostra abitazione con la geolocalizzazione. Sotto tre tasti nella parte centrale, tre tasti di scelta rapida, quindi caldo 27 gradi, freddo 21, in economico 15 gradi, come se fosse spento il calorifero. Nella parte in basso trovate il tasto on off per proprio accendere e spegnere del tutto la valvola. Il tasto manuale che vi consentirà, come in questo caso, di modificare appunto la ghiera o il tasto automatico dove praticamente lui farà tutte le sue belle impostazioni che voi andrete a configurare. Cliccando sui tre trattini in alto a destra troviamo il nome di dispositivo che abbiamo già visto prima, lo smart hub collegato, il manuale utente multilingue. Trovate la modalità temp che sono i tre tasti di scelta rapida di cui parlavamo prima, potete cambiargli le temperature e impostarle come preferite. Trovate la sezione programmi dove qui praticamente potrete andarvi proprio a programmare giorno per giorno, ora per ora, tutte le fasce orarie e tutte le temperature che vorrete. Ci sono delle notifiche anche che vengono supportate da Meros e sono il rilevamento della finestra aperta, quindi se viene rilevato uno sbalzo improvviso della temperatura a ribasso vi arriverà una notifica o se le batterie naturalmente del dispositivo si stanno scaricando. Attenzione ragazzi, cosa molto importante, prima di andare a acquisire sull'app Alexa tutte le informazioni che abbiamo sull'app di Meros, vi ricordiamo di scaricare la skill sull'app di Alexa della Meros, cosa molto importante. Passiamo sull'app Alexa e vediamo un attimo come farle riconoscere ad Alexa appunto. Andiamo in tutti i dispositivi, ne in tutti i dispositivi al momento non l'ha ancora rilevato, quindi clicchiamo il tasto più in alto a destra, aggiungi dispositivo, scorriamo in basso, anzi termostato, altro, trova dispositivi. Eccolo stranissimo Michi, miracolo, no rifacciamolo, rifacciamo e sbagliamo, rifacciamolo perché non può funzionare così al primo colpo, veramente mi sto offendendo adesso, è stato trovato, è bellissimo ci credo, non partirà, è il primo dispositivo che si commette subito, non partirà stand by, non partirà musichette, noi disperati, ore e ore ad aspettare, Stem by lo metto lo stesso, guarda, eh che cavolo. Niente, clicchiamo su configura dispositivo, aggiungi termostato a un gruppo? Ma no, al momento saltiamo. Ok, è pronto per essere usato, fatto. Ora, se andiamo in termostati o in tutti i scenari, come potete vedere ci ha trovato stanza dei bambini, in questo caso è on, da qui si può accendere e spegnere, o cliccando sul nome vi apparirà questa schermata con tutte le gradazioni e quant'altro. Potete crearci volendo una routine, andate a vedere il video che abbiamo fatto e che vi mettiamo la scheda qui sopra, sulle routine appunto. Allora, solo per comodità proviamo a dare il comando ad Alexa direttamente qui dall'app del cellulare, ma è la stessa cosa se voi la date al vostro dispositivo. Perfetto, ce l'ha impostato. Lo ricambio prima che mi dimentico. Alexa, stanza dei bambini, 25 gradi. Automatico è impostato su 25. Perfetto. E ce lo rileva anche velocissimamente il display della nostra valvola. Un'altra cosa da farvi notare e da sottolineare. Per risparmiare le batterie, tutti gli input che andiamo a dare alla nostra valvola vengono appresi, diciamo, dalla valvola stessa ogni 3 minuti ciclicamente. Questo appunto per evitare che stia continuamente in connessione e che quindi consumi batteria. Quindi in questo caso facciamo una prova. Adesso è impostato a 26 gradi la stanza dei bambini. Proviamola a mettere a 27 gradi. Potete già notare che dall'app risulta riscaldamento a 27 gradi e ora potrebbe essere che dovremmo attendere anche fino a 3 minuti. Proviamo a guardare un attimo sulla valvola. Come potete vedere già sul display appare il simbolino del riscaldamento, quindi che è lo stesso di quello che trovate sull'app. Quindi lui l'ha già preso. Per metterlo in funzione possono passare fino a 3 minuti. Eccoci qua ragazzi. Speriamo che sia stato tutto chiaro. Noi ci proviamo sempre facendovi vedere ogni passaggio. Certo, avevamo già montato l'hub principale, però vi abbiamo spiegato passo passo come farlo. Certo, l'utilizzo, perché serve e quant'altro. Quindi non dovreste riscontrare problemi. Allora, se per caso riscontrate poi dei problemi perché magari una parte del video non è stata abbastanza chiara, lasciate pure qui sotto un commento e noi vi risponderemo al più presto. E già che siete qui sotto... Un pochettino più sopra, come nell'altro video... Ci sono tutti i link dei prodotti che abbiamo testato e di cui trovate i relativi video e test nel canale. Quindi se cliccate vi rimanda il link ad Amazon e da lì potete acquistarli. Ok, io direi che per questo video è tutto. Al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!